Con il meteo sempre più incerto in quota, i lavori di ripristino del danno causato dal maltempo alla copertura dell'ostello di Campo Imperatore sembrano allontanarsi sempre di più qualora non ci sia una finestra temporale consona per poter intervenire. Un danno enorme per il turismo d'alta quota è avvenuto proprio alle porte della nuova stagione invernale che costringerà il centro turistico a correre ai ripari ed organizzare una soluzione tampone per garantire comunque un punto di ristoro con l'hotel di Campo Imperatore chiuso per i lavori da modernamento. Così l'amministratore unico del centro turistico del Gran Sasso Dino Pignatelli che rassicura circa l'apertura invernale della stazione in quota. L'ostello adesso ci sarà domani un sopralluogo con la ditta che ha fatto i lavori e poi si vedrà, insomma dipende da tanti fattori. Comunque garanzie per aprire la stazione li posso dare perché in effetti o si interviene direttamente sulla struttura o in qualche modo provvisorio, però insomma l'ostello lo dobbiamo necessariamente rendere operativo. Senza un punto di ristoro la stazione non può aprire proprio per questo. si doveva trovare una soluzione tampone, il sindaco parlava di mettere al piano terra dell'hotel di Campo Imperatore un punto di ristoro anche se su questo c'erano dubbi espressi un po' da diverse parti. Beh vabbè queste sono ipotesi che stanno pensando, però insomma vediamo prima la situazione. Adesso verifichiamo lo stato del danno perché in effetti non si riesce nemmeno a vedere i danni. Lo verifichiamo e prenderemo gli adeguati provvedimenti. Sicuramente dovremo intervenire provvisoriamente o definitivamente da vedere. noi come centro turistico. Poi il comune dovrà fare le sue valutazioni e vedere, insomma. Però insomma, ripeto, penso di poter garantire che apriremo, in qualche modo apriremo. Potrebbe essere un intervento di una settimana o di un mese da verificare. Insomma, non si può sentire le varie voci che parlano senza sapere, senza conoscere. Perché in effetti anche io non tiro fuori previsioni perché dobbiamo verificare la situazione.